Attacco partiglieria, coordinate Charlie 6, eliminare Charlie 6, ricevuto A aprire il fuoco Carro armato, a ore 12, distanza 300 metri Carro armato, a ore 12, distanza 300 metri Carro armato, a ore 12, distanza 300 metri Carro armato, platos e ombito Carro armato, a ore 12, distanza ! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.